CASTELLO FIABESCO Ciao, io sono Sidney, conosci già Mercoledì? Ciao! Mercoledì, che stai facendo con questo coltello? Stai cucinando qualcosa? Beh sì, se così si può dire E che cosa staresti preparando? Ah, sono solo fragole, mi ero già spaventata Ti aiuto a pulire Sto organizzando una festa Una festa di Halloween Mi aiutate? Certo che ti aiutiamo, vero? Questo punch sta venendo proprio abbondante Ma c'è ancora questo? Io non berrei mica un punch così E tu? Io preparerò dei biscotti Ecco delle formine per te Oh, grazie! Delle formine per Halloween Carine, no? Faremo dei bellissimi biscotti Con le formine di Halloween Cominciamo con il fantasma Cominciamo con il fantasma E adesso facciamo una zucca E ora facciamo il cappello Ai miei amici piaceranno di sicuro Ma secondo te chi ci viene a questa festa? È tutto così strano Alla mia festa Gli sarà anche una jacuzzi Ma sarà piena di sangue Non ti preoccupare È solo slime È perfetto Sono arrivati Benvenuti alla mia festa di Halloween Hai visto? Gli invitati sono degli scheletri Un ragno E una vera strega Oh, guarda! Un bagno di sangue Mi piace Questa sì È una festa Già Mercoledì? Hai qualcosa da mangiare? Non sai che mi piacciono i biscotti? Ecco i biscotti Sono pronti Tu lo sapevi Che al ragno piacciono i biscotti? Oh, i biscotti Posso provare un po' di punch? Pronto Oh, scusami Lo tolgo subito No, non lo togliere È più saporito Ok Oh, mercoledì È una festa meravigliosa Ma come hai fatto questo punch così buono? Grazie Mi sono fatta aiutare da un'amica E a te È piaciuta questa festa così paurosa? Mi raccomando Iscriviti al canale Per non perderti le nostre prossime avventure Ciao Ciao